Siamo il primo comune al mondo ad avere la doppia certificazione che abbiamo ricevuto oggi, certificazione qualità e certificazione ambiente. È un risultato importante perché questa certificazione avviene solo dopo che il comune ha lavorato per dimostrare di operare con trasparenza, semplificando le procedure burocratiche e con efficacia rispetto ai risultati. La certificazione certifica tutto questo, quindi la trasparenza, la semplificazione avvenuta e l'efficacia dei risultati. Abbiamo lavorato su tre grandi linee, quindi un call center che lavora 24 ore su 24 rispondendo alle esigenze di tutti i cittadini, l'attivazione di sportelli nelle diverse zone che sono non più solo sportelli anagrafici ma sportelli multicanale, quindi dove possono essere richiesti certificati più diversi e grazie alle nuove tecnologie attraverso la certificazione dei documenti e i pagamenti online. Questo ha portato, lo faccio solo a titolo esemplificativo, a diminuire in via larga le code di un 40%. Anche le indagini di customer satisfaction che abbiamo fatto sono positive, sappiamo che abbiamo ancora da migliorare e ci impegniamo a continuare a farlo.